Come si può individuare le stagioni della resistenza? Invece di forte contrapposizione e possiamo dire anche di crisi della memoria della resistenza. Sono gli anni che corrispondono all'inizio della guerra fredda e alla contrapposizione politica molto forte fra la democrazia cristiana, i cattolici e le sinistre, emblematico lo scontro per le elezioni del 48. In questi anni la resistenza è messa anche giudiziariamente sotto accusa, ci sono molti processi a carico di ex partigiani e c'è una contrapposizione molto forte politica e si traduce anche in una contrapposizione sulla memoria. Ad esempio la democrazia cristiana e anche gli ambienti moderati, liberali, vicini alla democrazia cristiana rivendicano di essere stati artefici di una resistenza intesa come lotta per l'indipendenza del paese e per la libertà del paese e accusano invece le sinistre di aver combattuto una lotta di parte minata fin dall'origine dall'ideologia comunista e dal marxismo, dalla vicinanza al marxismo, accusano le sinistre di essere totalitari. A loro volta le sinistre rivendicano invece il proprio ruolo nazionale, rivendicano appunto la partecipazione a una guerra di liberazione nazionale e allo stesso tempo però anche avanzano critiche all'altra parte. Si parla di una resistenza interrotta, cioè di una rivoluzione interrotta, di una resistenza tradita, come se quel grande movimento di rinnovamento democratico fosse stato appunto interrotto e tradito dalle forze moderate adesso al potere, in quegli anni al potere. A questa fase segue una fase invece di recupero in qualche modo della memoria della resistenza che ha un momento fondamentale intorno proprio al decennale, al 1955, anche l'elezione di un presidente cattolico come Gronchi, ma antifascista, sindacalista, ha un ruolo importante nel recupero di una memoria unitaria della resistenza che è in qualche modo riscoperta e predomina negli anni 60. Un punto di svolta è proprio nel 1960 la contestazione a Genova contro la decisione del governo di far svolgere a Genova il congresso e il movimento sociale italiano. Ci sono grandi manifestazioni di piazza con la partecipazione dei giovani, per la prima volta c'è un'evidente sensibilità dei giovani, mobilitazione dei giovani insieme ai vecchi partigiani. Con gli anni del centro-sinistra, quindi dal 1963 in poi con l'inserimento del Partito Socialista nella maggioranza di governo, lì sì la resistenza entra nel panteon, per così dire. Ci sono grandi celebrazioni unitari in occasione del 1965 con comitati organizzativi che includono anche esponenti del Partito Comunista. Quindi gli anni del riscatto pubblico potremmo dire della resistenza, però già a partire da questa fase si manifesta una frattura, una contrapposizione interna resa evidente soprattutto dal 1968 in poi, quindi dal movimento studentesco, una contrapposizione fra quella che viene chiamata una resistenza tricolore nazional patriottica e una resistenza rossa. Vale a dire all'interno della sinistra, questa è una frattura che segna la sinistra, il movimento studentesco e poi quella che viene definita la nuova sinistra rivendica a sé la resistenza come lotta rivoluzionaria per la trasformazione degli assetti dell'economia e non solo della politica italiana e accusa soprattutto il Partito Comunista di tradimento. Il Partito Comunista sarebbe stato lui a imbrigliare le forze rivoluzionarie dal basso, soprattutto viene messo sotto accusa Togliatti e la svolta di Salerno. Questa frattura possiamo dire addirittura diventa ancora più forte negli anni 70 quando addirittura una parte stessa della sinistra radicale che sceglie la via della lotta armata rivendica, le Brigate Rosse rivendicano la tradizione, il retaggio della resistenza ovviamente scegliendo ad esempio i GAP come punto di riferimento, quindi la memoria della resistenza come un patrimonio da riprendere e mettere in atto nel presente attraverso un impegno rivoluzionario. Quindi una memoria che si contrappone in maniera molto forte a quella ufficiale che fa capo a quelli che allora appunto vengono chiamati partiti dell'arco costituzionale che invece invoca la resistenza come base per difendere la Costituzione e l'assetto della Repubblica che appunto si dice nata dalla resistenza. Anni 80 uno scenario completamente diverso, nonostante che alla Presidenza della Repubblica sia sceso un vecchio Presidente Partigiano, no, il socialista Pertini, Sandro Pertini, ebbene nonostante Pertini alla Presidenza abbiamo la diffusione nel Paese, nel discorso pubblico di un revisionismo che si orienta in senso antiresistenziale riprendendo tutta una serie di critiche di matrice anticomunista contro la resistenza. Quindi accuse che vanno soprattutto contro il Partito Comunista, responsabile di uccisioni indiscriminate o di avversari definiti fascisti, ma in realtà avversari di classe, quindi temi come le foibe, temi come il triangolo della morte, episodi come Porzius, quindi tutto un bagaglio, un repertorio di argomenti antiresistenziali giocati in chiave anticomunista. Sono gli anni, non a caso, di quella che viene definita la seconda guerra fredda, il contesto in cui si riaccende il confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, dopo l'invasione dell'Afghanistan nel 79, questione degli euromissili, e in questo contesto che riattiva l'anticomunismo più in generale, appunto si situa questa corrente revisionista molto forte in Italia, molto presente anche sui mezzi di comunicazione di massa, non solo a livello storiografico, ma prevalentemente direi sui mezzi di comunicazione, giornali e televisione.